ed Emanuele Yon è un istruttore di Judo di Judo Jiu Jitsu e Sambo Russo viene dalla Russia e sta preparando gli atleti della Kombajima proprio per questo tipo di attività e uno viene dalle forze militari russe per cui ha un passato e un trascorso come militare dove si è allenato e si è addestrato e sta portando presso la nostra palestra questo tipo di combattimenti anzi sta proprio in questo periodo sviluppando un percorso per le donne di lotta e Jiu Jitsu femminile prettamente femminile per cui a settembre si apriranno i corsi di Jiu Jitsu e lotta femminile le proiezioni che vengono fatte vengono fatte tutte nella norma naturalmente calcolata ci saranno colpi di rottura Emanuele è un atleta che già combatte tecniche di Judo tecniche di Sambo e Jiu Jitsu un applauso bravi molto bene benissimo bravo Emanuele questo è solo un piccolo scorcio ricordiamo che a settembre parte il corso per le donne prettamente femminile tenuto da Jiu Jitsu